Cercano nuove strategie gli anticlericali e al meeting di Fano l'incontro di associazioni, circoli e gruppi ha prodotto alcune novità. Dal prossimo anno, ad esempio, prenderà il via l'anticleritur, manifestazione itinerante che proseguirà fino al 2000 per concludersi a Roma in una controfesta del giubileo. Sarà rifondata anche l'Associazione per lo sbattezzo, mentre la lotta per il ripristino della festa del 20 settembre, che fino al fascismo ha ricordato la presa di Roma e la caduta dello Stato Pontificio, si colora anche di suggestioni unitarie in chiave antilega.